Una battaglia, lo sapevate, Adriano Di Maggio, finale di Coppa Italia per il Pressano, un risultato storico. Sì, sicuramente per la Palamano Pressano è la prima, dopo la finale scudetto che abbiamo fatto contro il Bolzano, è la seconda finale che facciamo. Per noi penso di avere tutte le motivazioni possibili a livello di squadra. Nonostante abbiamo un organico molto limitato a livello numerico, penso che stiamo dimostrando a noi stessi, e a chi ci guarda che stiamo facendo della buona Palamano e ringraziamo tutti quelli che lavorano con noi e speriamo anche che ci vada bene domani. Quindi faccio un in bocca al lupo a tutti e chiunque capiti domani sicuramente cercheremo di dare filo da torcia. L'avversaria sarà una di queste due squadre, o Bolzano o Carpi, due corazzate del nostro campionato, sicuramente una super finale. Sì, sicuramente chiunque capiti, ripeto, ha sicuramente due squadre, nel senso che hanno un bel po' di giocatori, una bella batteria di terzine e di ali, hanno tutto. Però a noi, come penso anche agli altri, non interessa contro chi giochiamo, perché è una finale per tutti, al di là di chi capiti. Quello che conta è la motivazione e tutto il resto, quindi noi ce la metteremo tutta, non ci interessa contro chi giochiamo.